Allora, questo è sempre per raccontarvi qualcosa in più di nuvolettina. Allora, come vive a nuvolettina? Nuvolettina è della specie della rarissima cozza bianca che vive ancorata al suo scoglio. Praticamente, il suo scoglio sarei io e la cozzetta bianca sarebbe lei. Lei vive praticamente appiccicata a me. Ecco, nuvolettina, fai vedere. Ogni tanto lei, secondo le maree, si allontana un attimino, ma non le riesce più di tanto, anche se la marea tenta di spingere un po' più in là, non le riesce. Ecco, vi ho raccontato un altro piccolo episodio della sua esperienza di vita.